Questo è il canale dove non vi pigliano per il culo, perché io non vi piglio per il culo, è il canale dove vi si dice come diventare qualcosina, come implementare col bodybuilding, dove non vi fotte il pancreas, dove non devi mangiare 40.000 calorie e si parla di natural perché il 90% delle persone come voi non hanno ancora capito che cazzo è neanche il cedimento, la multifrequenza, la monofrequenza e sono confusi da una marea di, come avete visto dalla live con Miss Universe, il grande Filippo Massaroni che dice che il ditino del powerlifting si è inficcato dentro il bodybuilding per creare un casino, andate a vedervi la live. Qui si parla di sport in generale, si parla di anni 80, noi abbiamo fatto tanti di quei format come il TG che è stato adesso emulato dai due punk deficient dei Street Gorilla che salutiamo, ciao ciao, caricature, doppiaggi, ci piace tutto quello che è il divertimento, il bodybuilding fa parte della vita, è la vita che deve essere una vita meravigliosa, devi godere, nonostante questo periodo sia fatto di prese per il culo, imbavagliamenti con pandemie e fantasma, depressioni e persone che comunque si hanno perso alla lucidità mentale, sono rivolti a guru del cazzo che vi fottono con una ranga di palle tremende, sponsor, ragazzini piccoli così che hanno 25-26 mila follower, vi fanno vedere la loro vita e sono in TRT a 20 anni, tiratevi su, tiratevi su di morale ragazzi, tiratevi in piedi, cercate di capire i messaggi che vi dà una persona che è 50 anni e si allinea da tre decadi ed è per questo che comunque può ancora tirare fuori qualcosa a 50 anni nonostante sia auto dalle cure perché ho deciso di chiudere quattro mesi fa, quello che si farà ma non penso non sarà più una roba del genere, cominceremo a toccare l'arm wrestling che è un grande sport e anche dal pugilato dove arrivo io e a proposito di pugilato, ma Mike Tyson, Mike, Iron Mike, come si dice in russo, in russo, come si dice in russo, Jalessia Mike, non è stato il più gran figlio di puttana nonostante io lo ammiro tantissimo quel pezzo di merda perché sa come, ma lui comunque ha anche delle patologie particolari, lui è cazzo, lui è stato segnato tanto dalla vita, Cass D'Amato fu uno psicologo del male perché comunque condusse questo ragazzo sovrappeso con tanti problemi, che faceva le rapine, che già menava dieci anni a diventare il re, il re di alcune cose, ma attenzione, attenzione, Mike non fu l'unica persona ad essere un'arma mortale e continuare ad essere un'arma mortale dopo 50 anni perché con Roy Jones è stato fatto un discorso, tra l'altro dal presidente della UFC, Dana White, che per me è una merda umana, perché Mike avrebbe potuto aprire un'altra strada, è un qualcosa di differente perché a 53 anni era ancora mortale, ma quell'incontro non fu pensato per andare in knock out e poi quando fece l'intervista Dana disse nobody has, delle cazzate mostruose come quelli che dicono sei bombato, no, no, vi racconto la storia di Tommy Morrill, poi vi racconto la storia di Heike Ibebucci che era un altro nero che lo chiamavano the president, penso che sia ancora in galera adesso perché comunque sia, vedete, certe persone che prendono tanti colpi in testa, che hanno delle grandi, comunque delle piccole patologie, che poi fanno delle cazzate come stuprare, beh cazzate insomma, lo stupro è una brutta roba, vero o non vero perché tante volte qualcuno vede come con Mike il danaro, poi è andato in fallimento nel 2004 con 300 milioni e adesso abbiamo pugili come Floyd Mayweather che se fai lo sposti e fa 100 milioni al giorno, una roba del genere, per cui oggi la meritocrazia è andata in un incesso tremendo, no ma sai no, beh un bel pugilino per essere uno che pesa così poco, quelli che attirano tanto sono i massimi, per cui Lennox Lewis, grandioso, con un allungo che è due metri e mezzo e Mike che comunque sia per quello che ha dato non ha preso una botta in testa, cioè lui è scemo naturale, come me in generale, cazzo faccio rima, oggi parliamo di Tommy Morris, David Tua, questo Ike Bebucci che era un'arma mortale, ci sono scambiati David Tua che era un ciccio pasticcio samoano e questo Ike, mille e tot pugni in un incontro, prima che qualcuno cadesse, è un'arma mortale, ma uno era abbastanza fisicato, non lo so, steroidi? Nibo, non si sa, lì stiamo parlando di prodigi della natura davvero, nel senso che Mike era un prodigio naturale, aveva usato steroidi, lo disse che faceva anche delle cose diciamo di antidopi con pene falsi, esiste il pene di gomma che la persona ti deve vedere quando lo fai, te lo deve vedere, funziona così come The Film, The Program con Steve Latimer, io adoro quel film sulla NFL, io adoro l'NFL, il primo film di denuncia al doping, primo, era il 91 ragazzi, The Program, Andrew Brinaschi che faceva Latimer, un fisico meraviglioso, Tommy Morrison, Tommy Morrison era lo sfidante bianco per Tyson, ed arrivarono lì vicino per incontrarsi, poi una brutta notizia che fu l'AIDS di Tommy, a Tommy piaceva tanto la figa, come tante persone, un bel ragazzo, tutto quanto, un ragazzo bianco per cui, sai, nel razzismo che vigeva molto più forte, nonostante la gente razzista ancora adesso, un ragazzo bianco comunque sia, un toro, cazzo, cento e passa chili, e tutto finito nella merda in un letto a tipo una quarantina di chili, irriconoscibile, irriconoscibile perché la malattia ai tempi non era curata, erano a fine degli anni 80, ma Tommy Morrison che avete visto in Rocky V, era Tommy Gunn quello che aveva allenato Rocky, una macchina da guerra, come questo David Tua, questo Samoano grasso che menava come Dio la mandava, delle bombe mondiali che continuavano ad arrivare, una sorta di aerobica comunque sia per chi ha fatto la corda, che chi fa la corda per tre minuti per me è un eroe che va, gli va stretto la mano, per cui uno stile di vita che ti consente un'ossigenazione maggiore e comunque sia un prolungamento del tuo combattimento perché tu non ti affanni come ha fatto Levan con il nostro Gasparin, e Tommy Morrison doveva essere lo sfidante bianco che poi non è mai andato su per Tyson, nonostante poi abbia incontrato alcune persone che gli hanno dato uno stop, ma quando Tyson comunque era indisciplinato, andava in giro per gli hotel a fottersi le cameriere e una roba del genere, prodigi naturali proprio, non c'è un cazzo da fare, Tommy fu uno di quelli, David Tua incredibile, nonostante il fisico di merda di David Tua, e questo Aiki Bebucci che era un altro che poi finì in galera per 30 anni da quando aveva 8 anni, President, erano delle macchine sparapugni, ed erano in lista per combattere con Tyson, poi non sono arrivati, cioè Tyson comunque ha sfondato il tetto, dopo averlo sfondato è tornato indietro per la tua disciplina, in fallimento, comunque è nato con geni sbagliati per la mamma che era una sorta di entraineuse per essere buono, e il padre di cui non si capisce tanto che doveva essere un pappone, Mike è nato con il gene della cocaina, di conseguenza era rabbioso, l'unica cosa che aveva Mike, no, 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 rispetto a queste tre persone avevano tutte e quattro questo aspetto che era omicida, non erano un Lennox Lewis o un Van der Olyfield che combattevano distaccati, cioè senza quella passione che diventa qualcosa di determinante, Mike voleva ucciderti, in un incontro c'era gente che aveva sentito Mike, che faceva buchi al muro, che attendeva come un pitbull a catena al fatto che dove ci sono gente che sono ritirati addirittura, che cazzo di maschi, a me fanno impazzire queste storie qua, bodybuilding è fantastico, prima di costruire i muscoli costruite i testicoli, perché potreste essere 70 kg, potreste essere quello che volete voi, non è la massa, non sono i muscoli che determinano le vostre fortune, sia in amore che per quanto riguarda il prossimo, perché quello che volete voi non è tanto un'estetica che possa spaventare come quella che cercavo io da ragazzo quando ero preso il calcio nel culo, ma la verità dietro la leggenda, cioè essere uno inamovibile che ti fa cagare con lo sguardo, mai la violenza, pesate sempre quello che fate e viva lo sport!